Incendio nel primo pomeriggio di oggi, domenica a Pescara. A fuoco il cassone di un camion parcheggiato nel piazzale dell'azienda Rattenni, in via Raiale, nella zona industriale. Le fiamme sono state domate, ma nel frattempo erano stati molti i mezzi già danneggiati dal rogo. Il fuoco si è propagato intorno alle 14, favorito anche dalle temperature eccezionalmente alte della giornata. Sul posto è intervenuto il personale dei vigili del fuoco, della polizia, dei carabinieri e della polizia municipale. La ditta di logistica, con sede vicino alla Fater, si occupa di trasporti, molti gli automezzi, anche i cassoni dei camion parcheggiati nel piazzale prospicente alla sede. Uno di loro, dunque, è andato a fuoco per le cause che sono ancora da accertare da parte dei vigili del fuoco. Un'alta colonna di fumo nero si è subito stagliata nel cielo e è stata avvistata anche da molto lontano. Nel pomeriggio la situazione è tornata alla normalità.